La riunione dell'unità di crisi stamattina è più allargata con altri partecipanti, sono in aumento i punti di vaccinazione regionali. La protezione civile sta continuando ad organizzare, ad aiutare il personale sanitario per mettere in piedi altri punti vaccinali. Dall'ultima riunione dell'unità di crisi c'è una bella impennata nelle nostre vaccinazioni, tant'è che da un più o meno 50% siamo arrivati ad un 74,7%. Mi auguro che continui questo trend in crescita perché i calabresi ne hanno tutto il diritto e i calabresi se lo meritano. L'unità di crisi si riunirà ancora venerdì prossimo, salvo che non ce ne sia urgenza e bisogno durante la settimana. Per altre informazioni che riguardano sia la campagna vaccinale che tutta l'emergenza Covid, continuate a seguire il sito della Regione e le nostre comunicazioni. Una cosa molto importante che abbiamo deciso stamattina in unità di crisi è che lo stoccaggio dei vaccini dalla prossima fornitura in poi verrà fatto a livello regionale e non più a livello provinciale per cui tutte le ASP e tutte le aziende ospedaliere con gli elenchi di prenotazione si dovranno rivolgere al centro di stoccaggio che sarà sicuramente istituito presso l'ospedale Mater Domini di Catanzaro. Un'altra cosa importante, noi aspettiamo il decreto legge che il Consiglio dei Ministri dovrà emanare subito dopo la riunione di oggi. Sicuramente sapremo quale sarà il colore che sarà dato alla Regione, fermo restando che si sta andando verso la convinzione sempre più ormai certa che si partirà da un'arancione per tutte le regioni per andare poi verso il rosso. Probabilmente la colorazione gialla dovrebbe per il momento lasciare il posto a quell'arancione. Mi raccomando, colgo l'occasione, voi sapete che noi siamo passati dagli 89 casi di contagio di domenica scorsa a 414 di ieri. Sono tanti, il contagio sta aumentando, sta aumentando in tutte le fasce d'età. Quello che vi chiedo è di rispettare assolutamente le indicazioni che noi vediamo, tutti con la mascherina, tutti a disinfettarci le mani costantemente, tutti a rispettare il distanziamento e soprattutto, per favore, oggi più che mai, evitate le occasioni di assembramento nei vostri paesi, nelle vostre città, nei vostri comuni. Evitate le occasioni di assembramento. Non è più il momento di negare o di essere leggeri. Sui nostri territori purtroppo è presente, e ormai lo sappiamo, già la variante inglese. Stiamo studiando per capire se ci sono anche altre varianti. La variante inglese non si comporta come il virus si è comportato fino ad oggi, quindi vi chiedo ufficialmente di evitare qualsiasi forma di assembramento o di alleggerimento dell'attenzione. Grazie e alla prossima.